Siamo a Piazzurro Cesare 119, da circa due ore si è aperta una voragine a fianco di questo edificio, siamo in un parco adiacente alla ferrovia, tra i campi di Tregrei, le famiglie di questo edificio sono state scollate, si presume che, come si vede anche nell'immagine, che la voragine si sia aperta a caso di alcune infiltrazioni di girfuoco, oramai sono qui da circa due, ancora non si comprende qual è la situazione, le famiglie non restano ancora predette, quindi rimane la questione del palazzo completamente scollato, attendiamo notizie. Allora, cosa è successo? Noi all'improvviso nel palazzo abbiamo sentito un voato, c'è stata questa frana, ora sono intervenuti i vigili del fuoco e praticamente per ora ci hanno spiegato che nonostante loro abbiano fatto l'intervento sia al comune, alla polizia municipale, non è arrivato ancora nessuno, c'è bisogno della luce per capire da cosa è provocato tutto ciò, hanno constatato che non è di peso né dalla fognatura dei nostri palazzi né di quello apposta, però nel frattempo l'acqua continua a scorrere e quindi è rischio di altre frane. Un condomino che sta a fianco è chiamato i pompieri, io stavo qui giù e ho visto questa voragine che si è creata. Ma mi diciamo che non si può fare. Siamo solo usciti in un gran riferimento.